Siamo a Duomo sulla linea 1 della metro, allora lo vediamo, eccolo qui, l'uomo camminava sulla riga gialla, sembrava barcollare, poi è restato impigliato tra i vagoni, viene trascinato per un paio di metri. Ebbene, solamente grazie alla prontezza del macchinista che si è immediatamente accorto dell'accaduto e si è immediatamente fermato, l'uomo praticamente è riuscito totalmente illeso da questo incidente che veramente sarebbe potuto essere mortale. Guardate queste immagini, sono veramente impressionanti.